Ciao Daniele, come mai hai deciso di supportare questo ragazzo? Perché anche io come lui sono stato un piccolo prodigio e appunto cercavo aiuto da tutti e non avevo da nessuno. Quindi le brutte esperienze che ho passato io non volevo far passare agli altri, soprattutto a chi merita. Quindi spazio ai giovani e mi piace far crescere i giovani come me. E soprattutto, volevo dire una cosa molto bella, oggi ho il piacere di averla nella mia città. Appunto qui ci troviamo a Palermo, uno dei quartieri più storici di Palermo, di Capo. Quindi, mi troppo a città non conoscerò un po' della bella Sicilia, ma soprattutto le mie caratteristiche e la mia Palermo. Che dire, grazie sempre, seguite Francesco, Francesco Iunori, perché ci saranno tante cose belle, ma soprattutto tante sorprese. Quindi, immaginate voi di che cosa si può parlare. Daniele, quali sono le tue prossime novità? Allora, ma sicuramente il mio nuovo lavoro di scuola, mi riescono a differenze, di un momento forte, ma soprattutto abbastanza vero. Quindi io credo di essere io, non sono né migliore né peggiori di me, sono io, mi trovo una differenza. Ma soprattutto i videoclip, tantissimi concetti, tantissimi concetti che i calendari stanno scoppiando, praticamente. Ma soprattutto una cosa molto bella, Francesco ha il pregio, ma soprattutto la fortuna di essere nato. Ho cresciuto in una bellissima città, Cerignola, a cui io sono legatissimo. Quindi, grazie a Francesco, grazie ad Antonio, colui che sta curando tutto il progetto, girerò anche un video mio, un personale, a Cerignola. Quindi seguitemi, perché sarà una delle esperienze più belle girare il video a Cerignola, perché io sono veramente legatissimo. Poi ha dato tanto a me la Puglia, per trovare anche il Cerignola. Mi lascio. Grazie.